Ciao a tutti ragazzi, bentornati sulla spiaggia per la prima pescata estiva alla ricerca dell'orata in diurna. Siamo a Torbaianica, oggi ragazzi il mare è completamente forza olio. Siamo la metà di mille a pesca in realtà, si vedono canne da pesca perdite ad occhio, sembra una gara. Lì i ragazzi che ci seguono alla mia destra sono il campione Adriano Magliocchetti e il campione Mattia Furfaro. Adesso li andiamo a disturbare sicuramente vicino alla postazione. Qui con noi alla nostra sinistra c'è anche Alessio, tre canne lui, tre canne io e due canne a seguire Mattia e Adriano. Esca a Renicola come se piovesse, granchi ne stiamo facendo un secchio con delle sarde messe sui bastoncini, non vi sto ad annoiare con le solite immagini. Travi abbiamo in acqua, travi a due ami, mini travi, travi a tre ami. Adesso sta arrivando anche un amico con il drone per portare le esche un po' più sulla lunga distanza. Ci vediamo nel corso della pescata, dai regà! Allora abbiamo trovato il filo della Zero Seven spiombato, anche se in realtà l'asticella non si era mosso. Il recupero lo sta facendo l'amico Loris, dice che sente peso, stavamo molto lontani dalla spiaggia, adesso facciamoci il recupero assieme. No, si è alleggerito. Si è alleggerito. Si è alleggerito. che non senti che il piume nada ragazzi i campioni non si smentiscono mai non prende niente nessuno lui c'ha due ore a tenersi grande Adriano bella Radella bella dai Adrià allora l'amico Gianluca pirata ci è venuto a trovare mi aveva promesso ha portato il drone e già ci ha portato fuori le mie esche ha portato fuori adesso sta portando quelle si sta preparando per portare fuori quelle di Alessio dai Adriano due nel secchio le ha messe una sulla lunghissima distanza una nel primo canale adesso noi stiamo mettendo anche siamo intorno ai 250 metri ha sganciato a me incrociamo le vite regà dai siamo veramente la metà di mille oggi passate alla marana la marana appare assicuro ca sganciato a me imm sicura sganciato a me incrociuto anche si assicuro giallo bella vediamo un po sembra che una delle canne tirate col drone sia partita andiamo a vedere partita ecco il pirata certo l'ho fatta vediamo cosa esce dall'acqua ecco la bellezza una bellezza vera ecco la tua spiaggiata sul granchio dai regà bella grande grande alfredo bravissimo grande grande pirata con il suo drone grande alfredo grande alfredo grande alfredo grande alfredo via ragazzi ancora catture sulle esche tirate fuori col drone ma questa ha schiombato ha schiombato la mannata è andata la tirata ok ragazzi su 220 metri e adesso stoppiamo qui ci vediamo sulla fine del repubblico grazie a tutti Grazie